Da quando il governo ha stanziato un sacco di soldi per invogliare la gente a rifare la facciata della propria abitazione, così per risparmio energetico, non è più una cosa strana vedere appunto i palazzi avvolti dalle palizzate, dai famosi tubi innocenti e vederci poi arrampicati tutti i muratori che ci lavorano, muratori maschi. Non ho ancora visto una muratrice, quindi anch'io come la maggior parte delle persone che abita nella mia città, ma ripeto si estende a tutta l'Italia, sto convivendo da circa un anno e mezzo con quelli che io chiamo i miei muratori. Abbiamo un rapporto strano con i miei muratori perché il mio palazzo ha otto piani, però quando lavorano al mio piano hanno quella specie di ascensore che è proprio adiacente al balcone, un lungo balcone che attraversa diverse stanze, quindi mi beccano quando sono in sala, mi beccano quando sono in cucina. E siccome è come se ce l'avessi proprio a casa quando lavorano sul mio piano, ma anche quando stanno un po' più su e un po' più giù, posso ascoltare i discorsi che fanno. Io ho seguito in un anno e mezzo di lavori come si sono avvicendati le diverse squadre, le squadre di gente più giovane che scherza, che canticchia, che fischia, quelli un po' più anziani che magari parlano tra di loro in un sardo molto stretto, che io non capisco nemmeno quello che dicono. L'uso o il non uso dei dispositivi di sicurezza. E poi c'è questa cosa qua che a mezzogiorno e mezza fanno la pausa per il pranzo. La pausa per il pranzo la fanno, ho scoperto, seduti nell'androne, nell'ingresso della casa. E mi capita diverse volte che io proprio a quell'ora o tra mezzogiorno e mezza e luna capita che devo attraversare il portone e lì vedo seduti lì. La cosa un po', non lo so, mi sembra una cosa così strana che non ci siano, sì ma d'altra parte dov'è che dovrebbero andare a mangiare? Non è che possono andare tutti i giorni al ristorante o anche al bar. Quindi si portano il loro recipiente, mangiano, si comprano qualcosa lì, stanno seduti sulle scale. Mi sembra una cosa così, non lo so, mi fa un po' di tristezza. Mi ricordo che un po' di anni fa, prima dell'esplosione delle cose, delle facciate dei palazzi, quando non era ancora così usuale vedere i muratori, avevamo dei muratori nel palazzo e io ero uscita per andare a fare la spesa e ho visto che loro due erano seduti appunto sui gradini e al ritorno mi ero fermata al bar, visto che stavano facendo il loro pranzo, e gli avevo portato delle paste. Loro erano stati molto molto colpiti e io ero rimasta molto contenta della loro contentezza. Piccoli gesti che non si replicano quando si hanno i muratori un anno e mezzo.